Siamo andando velocemente verso la città dei muri. Siamo andando su lungo mare Ale, peccato la piscina. Siamo andando. 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 La tromba d'aria si sta avvicinando al porto di Salerno. La tromba d'aria si sta avvicinando al porto. La tromba d'aria si sta avvicinando al porto di Salerno. La tromba d'aria si sta avvicinando al porto di Salerno. La tromba d'aria si sta avvicinando al porto di Salerno. La tromba d'aria si sta avvicinando al porto di Salerno. Il porto di Salerno, come vedete, danni ingenti alle attività commerciali della zona. Praticamente un bar è stato devastato dalla furia del vento. Inoltre sono caduti vari alberi proprio nella zona antistante. La tromba d'aria si sta avvicinando al porto di Salerno. La tromba d'aria si sta avvicinando al porto. La tromba d'aria si sta avvicinando al porto di Salerno. La tromba d'aria si sta avvicinando al porto di Salerno.